Oggi per Giorgia Meloni è stata una giornata importante per un progetto al quale lei tiene tantissimo i due centri per i migranti in Albania perché è in viaggio la prima nave militare italiana con a bordo solo 16 migranti per 50 ore di navigazione. Che senso ha questa operazione? Tu l'hai capito? Ha un senso propagandistico perché è un governo che ha vinto le elezioni, una maggioranza che ha vinto le elezioni anche promettendo la luna sulla gestione dei migranti, luna che non si è minimamente vista e secondo me in questo varo di questo straordinario accordo con l'Albania c'è molto di questo governo perché è un accordo un po' inutile, un po' caricaturale, un po' persino dannoso. Intanto l'abbiamo visto, tutto questo casino, scusate la parola, per 16 migranti, non mi sembra sto grande risultato. La prima nave questa, stanno ancora completando i due centri. Senza alcun dubbio, dopo di che dovevamo partire a maggio o parto a ottobre, se avessimo fatto le stesse pratiche in Italia e non Albania avremmo speso quattro volte meno. C'è un'idea etica, un'idea della destra, del dire i migranti mandiamoli altrove. L'ha provata a fare la Gran Bretagna mandandoli in Ruanda, Orbán è andato a Pontida dicendoli portiamo a Bruxelles, quindi c'è un'idea anche etica che io trovo inquietante. Ma secondo me ci sono due criticità enormi, anche giudiziarie. La prima, questi 16 migranti, sapete qual è la cittadinanza di questi 16 poveracci? È egiziana e Bangladesh. Piccolo particolare, il rimpatrio degli egiziani sta al 12%, il rimpatrio del Bangladesh sta al 5%, cioè si sta parlando di una cosa che concretamente non porta a nulla, perché poi c'è un'aggravante giuridica, ovvero furbamente ma cinicamente questo governo ha aggiunto nei paesi cosiddetti sicuri, che sicuri non sono per niente, chi? L'Ecitto e il Bangladesh, che non sono minimamente sicuri. Cosa vuol dire questo? Perché soltanto coloro che vengono da paesi sicuri possono andare in Albania, senza andare in tecnicità. Che quando si dovrà discutere la caratteristica, la tematica e l'aspetto giudiziario di questi migranti, il Tribunale di Roma e i magistrati dovranno dire molto semplicemente, anche in base a una sentenza della Corte di Giustizia europea, ragazzi, questi non possono stare in Albania, perché non vengono da paesi sicuri. Quale sarà il risultato? Che questi avranno fatto 50 ore in Albania, poi 50 ore in Italia, torneranno costo doppio e non sarà servito a niente. Quindi è un accordo inutile, caricaturale e persino dannoso perché ci costa di più. Gran risultato proprio della Meloni, un trionfo. Allora, Italo Bucchino, sono obiezioni che fanno molti, al di là delle opposizioni, Schlein, oggi ha detto Giorgio Meloni, alza le tasse, ma sperpera quasi un miliardo per i centri in Albania che potranno al massimo ospitare e gestire 3.000 migranti. L'anno, dall'inizio dell'anno, sono approdati sulle nostre coste oltre 53.000 migranti. Quindi, al di là della propaganda, concretamente è realizzabile e serve questo doppio centro albanese? Sì, serve, sicuramente serve per due ragioni. La prima ragione è la deterrenza, funzionerà perché c'è la deterrenza. Se io so che devo prendere i risparmi della mia famiglia, pagare dei trafficanti di esseri umani, rischiare la vita per attraversare il Mediterraneo, arrivare dall'altra sponda del Mediterraneo in Italia, che la sinistra aveva fatto diventare il ventremolle d'Europa, dove poi entravo, richiedevo asilo, scappavo, me ne andavo nel nord Europa a lavorare, facevo altre cose. Questa roba è finita con la Meloni ed essendo finita c'è un effetto deterrenza di questo progetto. Il progetto è talmente valido che dopo tanti anni in Inghilterra hanno vinto i laboristi, il premier laborista ha chiesto al suo amministra degli interni di correre da Piantedosi per cercare di capire e di copiare. Addirittura ha chiesto a Piantedosi, il ministro degli interni inglese, di andare in una sala operativa per capire come funziona il nostro lavoro. Penso come sta messo in Gran Bretagna. No, stiamo parlando dei laboristi inglesi, del governo Starmer. Quindi il tema è altri paesi e altri paesi stanno cercando di capire le loro normative rispetto a un modello del genere. Allora il problema non sono i 3.000, il problema è la deterrenza, cioè quello di far capire che l'Italia non è più il paese che è disponibile, con la complicità dell'Europa a nord, dei paesi del Mediterraneo a sud che occhieggiavano gli scafisti, ad accogliere tutti. Noi dobbiamo accogliere i regolari, perché quella è una buona immigrazione che serve al paese e che serve a loro, i regolari che arrivano col decreto flusso e che vengono con i permessi di soggiorno. Gli regolari devono stare fuori dai nostri confini. È una cosa proprio semplice, però che piace agli elettori e ai cittadini. Ecco, ma su questa cosa nessuno può essere contro, il problema è che così come noi sappiamo che... Questi 16 sono irregolari. Un attimo, così come noi sappiamo che in questi due centri in Albania potranno ospitare e gestire al massimo 3.000 migranti l'anno, così come lo sappiamo noi, lo sanno anche i trafficanti di esseri umani e i migranti che vogliono approdare sulle nostre coste. Questo perché il problema è se sarà realizzabile. Ma quello che mi colpisce è che stiamo, secondo me, rovesciando il problema. Cioè noi non abbiamo un problema di troppo poca gente che arriva, noi abbiamo un problema di troppo poca gente che abita in Italia. E quindi i famosi irregolari devono essere molti di più e soprattutto avere molta più possibilità di venire regolarmente in Italia. Ma da un punto di vista elettorale, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, è improponibile? Sì, ma io non è che devo essere eletto, sto facendo un ragionamento per cercare di capire qual è il problema italiano. Il problema italiano è che abbiamo una popolazione che diminuisce a 10 anni, una popolazione invecchiata, età media a 48 anni. I giovani che saranno all'estero quelli bravi. Cosa abbiamo bisogno? Di gente giovane che possa entrare qui e si possa integrare. Scansi? No, era solo per dire che il tema dei migranti, certo che esiste, certo che la segnittura elettoralmente avrà sbagliato in un eccesso di buonismo, la semplifico, ma oltre al fatto che questa emergenza, come ha detto Caracero, non c'è, io discuto la tecnicità e l'efficacia. Cioè qui stiamo parlando di un decreto che riguarda pochissime persone che molto spesso, per le criticità che ho citato prima, andranno in Albania, torneranno indietro. Quindi questa cosa non servirà a niente, ci costerà anche il doppio. Allora io prendo atto che la Meloni ha preso di petto un problema, ma se tu un problema evidente lo prendi male di petto e fai spendere ancora di più lo Stato, dov'è il risultato? Cioè qual è sta grande trovata, sta grande genialità, dove la vedete voi? Non funziona niente, si sta parlando del nulla costoso. Poi se questo vi piace, io ne prendo atto, ma non mi sembra un gran passo avanti rispetto agli errori precedenti, che ci sono stati, ma qui errore su errore. È questo che io critico, non affrontare di petto il problema, ma affrontarlo male in termini elettorali e propagandistici, come sta facendo Meloni. Soltanto un flash. Il governo Meloni ha fatto un decreto flussi pluriannale, triennale, di quasi 500 mila ingressi regolari. Quindi nessuno mette in dubbio... In tre anni, no? In tre anni. Ha ragione Caraccio, noi abbiamo bisogno di immigrazione buona, solo che ci dobbiamo scegliere la regolare, perché noi stiamo dicendo che questa idea sembra quasi balzana, secondo me un'idea geniale quella dell'Albania, vedremo i risultati, poi giudicheremo i risultati, mi posso sbagliare. Però non è che so dei pirla il premier inglese di sinistra e il cancelliere tedesco di sinistra, due pirla che vogliono copiare la Meloni. No, vabbè, Caraccio li considera dei pirla, però hanno vinto le elezioni, io sono rispettosissimo di chi vince le elezioni. Quindi io vengo dalla politica, quindi per me la democrazia è sacra, chi vince le elezioni ha ragione rispetto al diritto, dovere di governare. Quindi se questi due che governano, la Germania e la Gran Bretagna, vogliono copiare il modello Meloni, non mi sembra una idea tanto balzana. Se qualcuno, tipo Scholz o Starmer, mi copia e mi preoccupo. Cioè non è che si sono stati eletti. Ma perché tu sei un intellettuale. Ma che intellettuale? Non è questione di essere eletti. Certo che sono eletti e quindi hanno diritto di governare, ma poi bisogna vedere quello che fanno. Ma comunque adesso parte tutto. In ogni caso questa storia dell'Arabania non cambia molto, né in un senso né in un altro. Ripeto, i problemi sono di altra dimensione. Quindi è una grande operazione propagandistica, più che di soluzione concreta del problema. Sì, ma è il problema che è mal posto. Cioè noi ci poniamo a un problema di un assedio di irregolari che non c'è. Invece dobbiamo porci il problema di come creare, in maniera la più possibile umana, dei traffici irregolari che ci servono a noi. E naturalmente a quelli che arrivano. C'anzi, rapido!